musica 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 spero vediamo colpi perchè sennò vai ammazza quelli là davanti nella fossa ammazza quelli nella fossa ma mandato questo ok me l'ho deciso sono a 13 dai ma da sintesi non ce l'hai vorrei evitare di usarla mentre che nella seconda run non c'ho più colpi cazzo faccio oddio oddio a destra non c'era nessuno ma ci stavano tutti venuti ma guarda guarda che io non muoio ma perchè davila era venuta da me e ci credo non c'era colpi che ti stavo facendo ops 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 raga ci sbrigiamo dai ma che ti devo dire dai cosi stanno ammazzando i colpi basta che non gli pusci non gli stavo pusciando infatti mi ha ammazzato ancora e ti muore sempre mi ha detto la carta si 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 chiama skill ecco ecco perché c'è un gruppo per fare che mi condotto che si ha detto metti da destra davini ma sono spunti la voglia al centro non c'è non c'è non c'è non ce la fai da solo è molto preoccupato ho bisogno della pappa non so che ce la faccio da solo non vai mai è morto bene colpi 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 c'è tutto ok quando volete io lo che fa la bolla quindi lo devo distrarre io si aspetta che ho cito l'ultimo adepto e lo distratto io sono pronto sparo buttate la palla eh però cazzo nessuno ha sparato la palla vento merga cioè io ho dovuto sparare alla palla sparare l'arco cioè tre cose non posso farle ah no facciamo una cosa il primo arco il primo arco lo tiro io va bene no perché 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 si eh così devi sparare alla palla almeno almeno power può sparare alla palla ma lui devi far prendere lo sguardo ma se quando io prendo lo sguardo tu butti giù la palla per me è più facile perché poi tu è meglio pure per te perché tu spari fisso a golgoroth poi capito devi non ti devi mai muovere per fare meglio ma non è meglio allora non è meglio che lo tiro io il primo arco almeno non smetto di sparare a golgoroth va bene dovresti tirare il secondo sarebbe la cosa migliore si infatti è meglio che tiri il secondo spacca la palla ma che ci vuole dai perché allora eh tu devi anche distruggere la palla bevi cioè non puoi tirare l'arco distruggere la palla e distruggere cosa che tu prendi aspetta non mi frega un cazzo no ti spiego ehm è meglio che lui spara l'arco scusa ti spiego dopo che ha distrutto la palla io sparo l'arco fai capito intanto non puoi sparargli finchè la palla non è giù quinto eh però perdi tempo per arrivare sotto eh ma infatti fai dei danno e io inizio a sparare anch'io e poi non devo smettere di sparare perchè lo tira a power l'arco ah va bene si dovrebbe essere proprio c'è ad arrivare giù tra proviamo quindi chi è che spara la cosa? il primo lo sparo io ok io quindi butto giù la palla quando volete tanto metto la palla a one shot in modo di conficcarmi sotto ci sto ci siete? preso palla giù vai power dai c'è tempo? 3 2 1 0 no non ho più colpi cazzo io per la primaria vabbè non me li prendo non me li prendo quanto abbiamo toccato? un botto un botto un quarto vabbè è buono ma che è un quarto? vabbè vabbè raga uno che viene un ottavo power un ottavo power vabbè un quinto no vabbè ne ho quinto Raga, io a sinistra sono quasi senza posizioni. Dovamo andare a raccattare colpi di secondario. No, ma non ci sono pochi nemici a sinistra? Quando volete, raga. Sì, dobbiamo ammazzare i nemici. Ok, ho quasi la sopra. Aspettate che mettiamo la palla one shot. Ma poi la tiro sempre prima io. Ok, quando volete sparo. Prendo? Non posso prenderlo, non posso prenderlo. Fermo, fermo. Deve girare. Preso. Spara l'arco, power. Ora. Tempo. 4, 3, 2, 1, 0. Quanto stanno? Vedo di metà. Va benissimo. È molto più comodo così, sinceramente. Arriva un tizio. Buongiorno, ho tirato l'arco. Ah, puto. Fa bene ammazzare i nemici. Tu vuoi prendere la fuga. Ma è che devo prendere la fuga. Sotto ci stanno... Ce l'hai la cosa per far diventare invisibili te? Che andiamo soltanto a prendere le cose. Io devo ammazzare quello giallo per prendermi. Che devi prendere solo con la sfuga? Sfere. A meno che non uccido quello. Devo andare per forza giù. Vieni, vieni qua. Ok, ce l'ho, ce l'ho. Ce l'ho. Ce l'ho. Ce l'hai tutti tutti? Sì. Aspetta. Non mi manca tipo un cazzo. Ah, io ce l'ho per pochissima. Fammi invisibile. Io ce l'ho. Ti faccio 5 secondi, io ce l'ho. Ce l'ho. Vai, 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 vai. Intanto metto la palla a 1. Ok, la palla a 1 shot, sparo, eh. No, sta sparando a me. Ma nascondite? Vai. Intanto spara qualche colpetto. Fatto. Vado prima io. Vai, Ventur. Hai fatto forse troppo percorso. Ora lo tiro, ora lo tiro. Ora. Vai. Distempo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quanto stai? Quasi morto, dai. Un'altra run. No. Non morire. Metto buco nero. Continuo a saltare, guarda il joystick rotto. Oh, oh, oh. Regà, guarda che schifo. Guarda il joystick. Che sta succedendo? Il joystick, se t'era tipo un pallato X. Non è continuato a saltare là. Non vedo l'ora di cambiarlo. Le stragi. Ecco, ecco i golpi. Alla. Oddio, metta la fai a me. Io non ho la super. Devo prendermi le sfere sotto, quindi vado invisibile. Vieni qua se ti vuoi venire pure più debili. No, no. Alla vado. Ho la super, fai i golpi con tutto. Merda, ma mi vede pure invisibile. Qualcuno di voi mi fa invisibile. Te lo distraggo dall'altra parte. Eh, bravo. Oppure se ti lancio ogni comodine. Quando vuoi, dai, quando vuoi. Ok, aspetta, 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 aspetta. Ok. Dobbiamo mettere la palla a one shot. Facciamo una cosa. Vai, vai, la palla è one shot. Vai di là, vai di là. No, è caduta. Preso. Prendilo. Vai, preso. Arco, arco. Lo tiro. Vai, fatto. Buono, buono. Facci il tempo, Power. Sto a 5. Io vado a destra, Ventura. Peccato di pochissimo. Mavi, bravi. Bravissimi. 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 Bravi. Partiamoci. Cazzo bravi. Venite qua sopra. Fai vedere il tuo elmetto bellissimo. 3, 2, 1. Aspetta. Vai, vai. Fai vedere il tuo elmo bellissimo, Ventura. Anzi, festeggio pure io con il mio elmo del Kentarca. 3, 2, 1. Abbiamo fatto 4 giri, giusto? Yes, 4 giri. Che bestia. Let's go, bitches.